Buongiorno, oggi iniziamo con Giorgia No, siamo venuti qua da Casa Maria a Viale Marconi Sì, oggi come sono? Cacchetto qui Rosumeria È praticamente il negozio dove vengo a comprare Perché io ho lo sconto con la scuola, facendo scuola e stare bla 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 Allora vengo a comprare qua tutte le cosette che mi servono Ho comprato un nuovo mascara Stavo dicendo, poi io mi perdo Poi questa che parla, non ci sto capendo niente Praticamente Adesso andiamo a casa Perché sono quasi le due già E poi E poi cosa altro devo fare? Ah, oggi devo andare poi dall'ottico a prendere le lenti Finalmente E a prendere anche A stringere un po' gli occhiali da sole Con i Ray-Ban di ieri Che sono un pochino larghi sul naso E poi basta Oggi andiamo a fare un giro a Roma Mi devo comprare assolutamente i leggings Ah, e poi Uno di questi giorni dobbiamo arrivare da Ikea Perché devo comprare un po' di cosettine piccole 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 Siamo arrivati qua da Starpe Scarpetto L'abbiamo parcheggiato E Sono piena di capelli Mi è venuta in mente che adesso dobbiamo andare a fare la testa Dell'autobus barra della metro Perché la mia scade domani E quindi per andare a scuola Bisogna rinnovarla Quindi Si va Si va Si va Si va A fare la testa della metro Al laghetto dell'euro Perché è di Roma Lo conosce sicuro Adesso quindi andiamo a fare la Testa Ok Quindi adesso stiamo andando via Abbiamo fatto il biglietto qua All'euro Capitate sempre nei momenti dei pacchetti Mi è arrivato questo Da una ragazza dolcissima che mi segue sul canale Si chiama Valeria Gli mando un bacione La ringrazio Poi adesso che entriamo in casa Vi faccio vedere cosa c'è dentro E lo guardiamo insieme Perché io non lo so Cioè è ancora chiuso Ora qua dietro Non ve lo giro Che stanno tutti gli indirizzi E così in camera Ho preso il mio Danidì Intanto Mi sono mia madre Sta cucinando Mezz'ora prima Quindi si soppone Sì adesso L'ho tolto adesso dal frigo Quindi lo lascio un po' qua E nel mentre apriamo Il pacchettino È stata la parte dei miei indirizzi Quindi adesso lo apriamo Allora Li appoggio qua così Nel mentre che l'apro Guardate insieme a me Io già vedo Che io sfascio tutto Mi spiace Per lei che me l'ha inviato Allora Già vedo Delle belle cose Questo È un quaderno È un quaderno No è meraviglioso Ci stanno i pennelli E tutte le No Dove l'hai trovato? Che carino Poi ha righe Cioè no Vabbè Un quaderno Di One Direction Cioè No ti prego Ti prego Wow Qui dietro c'è il Bip a passo Wow Magari fosse vero Però guardate quanto sono belli Comunque Guardiamo questo È a quadretti Cioè perfetto Mi servivano C'è una cover? No ti prego No No Cioè io con questa cosa Mi ci farò un tatuaggio Ma poi è stupenda Prego La metto subito Adesso sto girando Quindi dopo la metto Poi una letterina Che dopo 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 leggo Oh No Questo va nel mio muro Dei Dei disegnini Che carino Allora Nel frattempo ho letto la letterina E ti ringrazio Cioè Dolcissima Davvero Valeria Ripeto E poi ci sono altre due cosette Una cosa che vede Della Thun Aspettate Prima che Eccolo Stiamo qua insieme al pacchetto Apriamolo insieme Cos'è? Oddio no Aspetta È incartato È stata tranquilla Sono due orecchini Ah ok Non sono dell'Athun Sono No Sono in fimo Sono due Come si chiamano? Le E adesso vediamo l'ultima cosetta Che questa è bella impacchettata Non so se mi servono i forbici E poi vedo una cosa che Una cosa Ah C'è un'altra E quella è una scola No Ti prego No Cioè Mi hai risparmiato No 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 Mi hai comprato questo rossetto Lo stavo per comprare oggi È l'02 All you need is red Cioè No Ti prego No Una palettina della pupa Guardate che cucciola E poi l'ultima cosa Se non mi sbaglio Perché qua c'è l'ovattina C'è credo che sì La matita Tutu turquoise Questo qua è la essence Che carina È meravigliosa Qua Quindi queste sono le cose che mi ha dato Mi ha regalato Valeria Cioè la ringrazio troppo C'è anche Gwenda qua Amore 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 Oddio Oddio All'esplorazione All'esplorazione Ti piacciono le cose che ci ha regalato Saluta insieme a me Vieni Follelle Saluta Saluta Questa pancione Ecco la prima che stai a mangiare Che ho un prodottino Allora stiamo per andare A prendere le lenti Allora sono andata a prendere le lenti Queste qua sono quelle di prova Quindi non le abbiamo pagate E non so di che marca siano E c'è scritto solo la gradazione Questa qua è quella sinistra Ed è a 2.75 Siamo a Euroma Come sempre è la nostra entrata Noi entriamo qua E se bacchia siamo Stupido qua Quindi adesso Andiamo 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 Quindi Come vedete noi siamo Stra vicinissime A Lentato Io ogni volta che vengo a Roma Ho sempre paura di incontrare qualcuno Che conosco Perché poi la situazione è imbarazzante Ma a me non si succede anche a voi Abitanto quando mi incontrivo al culo Mi lo vedeva un sacco Ehi ciao Ma quanto sei crescita Wow Mi sei moccata tanto Cosa fa Cosa Ti sei persa No Ho fatto quello che mi pare Sì C'è Aria E vai col capelli Andiamo sti due Che ci hanno messi Sono insieme alla macchinetta Ormai di voi Ora prendiamo il Giorgia Che sale sulle scale mobili E wow I nostri eroi ce l'hanno fatta Allora ragazzi Dimi vedete Ho messo lo cover Mi piace un casino Siamo in un negozio Che si chiama Come si chiama questo negozio? Lisa Lu Lisa Lu Che è per te Ma ci prende sempre i leggings E mi piace un mio casino Quindi Ne ho presi due Allora stiamo qua da H&M Torcio Ok no Ve lo dico Stiamo facendo finza Di incontrarci così Sì Veramente ci siamo incontrati così E la mia pila di roba Come sempre Aumenta sempre Ma io alla fine Da H&M Io prendo prendo Ma alla fine Compro tipo una cosa A lei che commenta Certo per lei è meglio Il suo portafoglio piagno Ogni fu Cosa Qui c'è il reparto Qui c'è il reparto Bimbi E qui c'è il reparto Delle cose nuove Già Vado al reparto Cose nuove Allora Saluto la ragazza Che mi ha fermato Adesso Vicino a H&M Però Sono stra timido Ho fatto una figuraccia Comunque ti saluto Sì Stai guardando adesso Figuraccia Guarda che sta là Bershka Sta là Comunque saluto appunto Questa ragazza Che mi ha salutato E adesso Vado un attimo Dalla Kipua Sapete che io Ci vivo Dalla Kipua Sembra che non mi guardano male Ok Ho comprato Cosa ho comprato? Un blush Un ombretto in crema E uno struccante Dove provare Delle dico Perché non l'ho mai provato Adesso torniamo a casa Andiamo a cena Da mia nonna E devo E devo prima passare a casa Per prendere le foto Dal computer E qui Nessuno lo voleva fare L'attiviamo tutti insieme E poi diceva no Vale Le storie di infanzi Inizio gira di qua E Paola gira di là E poi ci incontra Vediamo chi fa prima No Con la vostrizza Vuoi salutare? Saluta YouTube Io devo salutare Io devo salutare Lecefania Ciao 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 Stiamo vedendo tutte le famiglie Di piscialu Passione forte O una parola lancia Chi è questo? 19 novembre Chi è questo? 19 novembre 2013 È il tuo complanno Non diciamo quanti anni ha Ecco Oh ma questa sono io Stai E Questa Tuo figlio Tuo è mio padre Oddio Ti vuole i miei capelli E come ce l'hai messo Perché mi vuoi ammazzare così? Guarda con i miei capelli lunghi Questo che mi avete regalato No questo me l'ha regalato Giulia Mia cugina Sì è mezzo Ma perché ce l'hai due uguali? Questa che è tua cugina Non è tua cugina Perché ce l'hai due uguali? Fa un salutino No Allora Quindi Il vlog di oggi È finito Sono stanchissimo Oggi Metterò a posto E andrò A dormire Quindi appunto Vi mando Il buongiorno La buonanotte E il buon pomeriggio Quello che state facendo E appunto Noi ci vediamo Al prossimo vlog Ciao Ciao